Si tu n'étais pas là, comment pourrais-je vivre? Je ne connaîtrai pas ce bonheur qui m'enivre. Ora serve un cartoncino. Possibilmente di pH negativo e di grammatura 300. Abbiamo la nostra Impossible già sviluppata. Allora, di regola bisognerebbe aspettare una giornata per fare questo tipo di lavoro. Però, visto il tempo, lo facciamo subito e ci adattiamo a come la pellicola si trasforma. Si, esatto, si trasforma. A questo punto, quando parlavamo prima di aprirla... ...questo è il negativo. In acqua. E' già fantastica così, con quelle crepe lì. Si sta frantumando. Si sta frantumando. ...quello che rimane. Si sta frantumando. Si sta frantumando. ...quello che rimane. ...quello che io considero praticamente l'essenza della fotografia. ...quello che rimane. ...quello che rimane! ...quello che rimane. ...quello che rimane. Quella lì sembra un po' lì Sembra un bimbo